Nell'ambito delle celebrazioni in occasione della visita a Biancavilla dell'Urna con il corpo del Beato Cardinale Dusmet, ieri sera nella Chiesa Annunziata è stata concelebrata una Santa Messa presieduta dal postulatore per la causa di canonizzazione del Beato Don Fausto Grimalti, sacerdote diocesano che in questi anni si è impegnato a raccogliere testimonianze e miracoli per intercessione del Beato Cardinale Dusmet. Dobbiamo anche tenere in considerazione due casi di presunti miracoli che questa postulazione sta esaminando per vedere se c'è l'ispiegabilità scientifica e che se provata questa inspiegabilità scientifica potrà permettere alla causa di aprire un'inchiesta prima diocesana e poi romana per il presunto miracolo. È chiaro che per verificare se c'è stato l'intervento divino e quindi che la scienza non riesce a spiegare uno dei due miracoli, allora potremo continuare l'inter per la canonizzazione del Beato Dusmet che noi speriamo al più presto di poter venerare come Santo per la Chiesa Universale. E stamani sono stati alcuni studenti delle Scuole Superiori dell'Industriale e delle Scienze Umane di Biancavilla ad ascoltare le parole di Monsignor Gaetano Zito che ha narrato la vita e le opere compiute dal Beato Cardinale Dusmet. Grazie.